Il buongiorno a Sandro Veronesi, che qualche mese fa, solo qualche mese fa, ha vinto lo strega con Colibri e che è di nuovo in edicola con il suo nuovo romanzo XY, che è quasi, come dire, una metafora della pandemia. Gli chiediamo subito, buongiorno Veronesi, se questa è un'interpretazione giusta del suo romanzo. Così, per cominciare. Questo è un romanzo di dieci anni fa che viene ripubblicato, anche perché c'è un cambio di editore nel frattempo. I dieci anni sono la cifra di tempo che scandisce i contratti, quindi in realtà è un'operazione di routine. Se non fosse che effettivamente questo romanzo ha molto più senso adesso che dieci anni fa. Onestamente, adesso quello di cui è metafora sta succedendo, mentre prima era una specie di mio incubo, di mia proiezione e aveva una connotazione fantastica che ora purtroppo non ha più. Senta, Veronesi, qual è la storia che narra in questo libro? Che è ambientato in Trentino, no? Sì, è ambientato in una valla inventata da me nel Trentino perché volevo la montagna, perché volevo una montagna strutturata, con storia. E in un piccolo borgo inventato da me, con pochissime persone ormai che ci vivono tutti vecchi, un prete che è il pastore di questo piccolo borgo, succede una cosa terribile. A un chilometro da questo borgo, all'uscita del bosco, accade qualcosa di terribile ma anche di indicibile, di inesplicabile, di inspiegabile. Ci stanno di mezzo undici morti, una bambina scomparsa, ma le cose non possono neanche essere dette, per quanto sono assurde. E quindi il problema è che da un lato c'è il grande mondo che deve informarsi e informare su una cosa della quale non si riesce neanche a parlare, perché ci si vergogna a dire quello che la scienza ha scoperto. E più ci si accanesce e più trova risposte incongue. Dall'altra c'è il destino di questi abitanti che sono investiti dall'onda d'urto come fosse una cosa radiattiva e che ha molto a che fare con i tempi che viviamo noi, perché è un contraccolpo mentale e psichiatrico micidiale. E il tentativo di questo prete e poi di una psichiatra che viene su da Trento di salvare la salute mentale di queste persone che hanno visto ciò che non si può spiegare e l'hanno interiorizzato senza avere la possibilità di spiegarlo e di spiegarselo. È un po' diciamo quello che succede qua, perché il vero pericolo, ora chiaramente la pandemia, l'economia, certo, ma il pericolo a lungo termine sono i danni mentali. E se posso permettermi di dire una cosa, senza voler mancare di rispetto a nessuno, questo negazionismo di cui ormai abbiamo traccia un po' dovunque, è una sindrome psichiatrica, si chiama sindrome di negazione. Quando una persona non riesce a sopportare il peso e la forza di ciò che ha davanti e che non riesce a spiegarsi, lo nega. E quindi non è che dobbiamo prendercela con un'ideologia. Quella è gente che sta subendo le conseguenze psicologiche, psichiatriche, di una cosa molto seria che sta succedendo a tutti. Ecco, proprio questo il punto. I due protagonisti del suo libro sono uno psichiatra, anzi una psichiatra e un prete. Quindi come dire, due poli dell'analisi della coscienza, diciamo così. Quello psichiatrico e quello religioso, ecco. Sì, sì. Sì, sono la scienza e la fede che alla fine si trovano a doversi coalizzare, ma purtroppo le cose sono più gravi di come loro pensano all'inizio. Non è più questione di salvare quel gregge, quelle anime, ma di salvare se stessi, perché il problema non è soltanto di queste povere persone, ma anche loro sono coinvolti e travolti da questo urto. Per cui sono la fede e la scienza che si danno una mano a salvarsi a vicenda, per riuscire a fare l'unica cosa che si può fare dinanzi a eventi di questo tipo, inesplicabili, che la scienza e nemmeno la fede riescono a spiegare. Accettare. Accettare e andare oltre. Ed è quello che con grande fatica dobbiamo fare anche noi adesso. Per questo c'è questa attualità imprevista di un romanzo che viene ristampato per il metabolismo editoriale. L'accettazione è una chiave di volta, no, di questo periodo? Eh sì. Sì, sì. Devo dire che, insomma, ci vuole un po' di tempo. Io come tutti all'inizio rifiutavo, rifiutavo l'idea che l'unico modo per difendersi fosse quello medievale del chiudersi in casa, però poi quando ho visto i risultati, ho visto la differenza tra i giorni in cui c'erano mille morti e i giorni in cui c'erano cento contagi, ho pensato che bisognava accettare, per adesso le cose vanno così, vanno accettate, se si accettano si riesce a fare qualche passo avanti. Se non si accettano si impazzisce, in vari modi. Grazie, grazie, grazie a Veronesi e complimenti per i suoi...